Eccoti, stavamo ascoltando la musica. Ma che musica in cui tanto hai messo? No, è questa, eh. Io ho sentito un colpo di piano rotto. Non la sento più. No. Eccola! Oh, questa volta speriamo che si senta, dovrebbe sentirsi questa volta nel video. Adesso cercherò di andare a ritmo ballando. Difficilissimo questa canzone. Aspetta appena guarda la batteria. Stai ballando te a casa tua o balli con il personaggio? No, 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 ballo con lui. Al momento sta facendo... Ah, giustamente. L'ambientazione. Ambience, sì, sì. Tipo un rave party. Eccoci. Sì. 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 Amanti dietro che giù. Che tordi che siamo. Vabbè. Ok. Senti, sei... Bene, via. Abbiamo uno solo di disporre adesso, vero? Sì, sì. Non abbiamo una grande collezione. No. Ah, tra l'altro vabbè. C'è un... Un endermi che è un blocco di terra davanti a una delle uscite. Ah. Pazienza. Eh, l'ho visto che c'è il blocco di terra, infatti. Senti, posso farti... Sì. Mi hai sporcato i pantaloni. Ci sono i cavalli in mare. Due cavalli in mare e il terzo che non so dove sia. Cosa è successo? Perché sono in mare? Non lo so. Fammene andare a recuperare... Ah, perché... Manca metà del mio muretto. Cioè è successo? Mancano tutti i miei muretti di legno. Cioè gli sportellini di legno. Ho sentito anche te questo rumore? Sento lo zombie, sì. No, è un rumore tipo di... Sì, sì, era lo zombie che ho ammazzato. Ma dove sono finiti i miei sportelli? Mi hai ciolato gli sportelli? Eh, cosa è successo? Io no. Ma... Non è che abbiamo subito un attacco, tipo? Eh, mi viene da immaginare... Guarda! Non è vero! C'è pure la strega laggiù! Eh, quella sto... Vabbè, adesso quella l'ammazzo, vabbè. Impara a stare là. No, no, è inutile che bevi, t'accoppo prima. Sono tenaci quando bevono queste pozioni della salute. Guarda i miei due cavalli laggiù. Eh, magari ne hanno ammazzato uno di cavallo, allora. O due ne hanno ammazzati perché... Secondo me c'è stato un... C'è stata un'incursione, secondo me. Quello sì, perché... C'è stata un'incursione sì, perché ho ammazzato alcuni incursori. Però non avevo idea che ti spaccassero la casa. Eh no, ti devastano, arrivano proprio a devastarti le cose, sì. Sì, quello sì. Vabbè, vado a riprendere degli sportelli e... C'è un altro cavallo laggiù. Il cavallo o il lama? No, no, penso che sia un cavallo. Mi è sembrato vedere dietro sta cosa qua. Questa ordinatissima costruzione che hanno fatto i miei. Eccolo qua il cavallo, sì. Ah, bella storia, da recuperarlo. Perché quello probabilmente è il tuo. Non so come fare, ci salgo sopra, dici te. Sì, sì, dovrebbe essere sellato. Mancano dei pezzi di muro, mannaggia. Vabbè, adesso mettiamo a posto. Molto, si respira molto di più. Adesso sono molto più contento, adesso che abbiamo recuperato i cavalli. Sì. Dai, fammi vedere. E poi è bello vedere il fumo. Dai, vieni. Fammi vedere, io intanto sono ripartito, eh. Ok. Allora ti porto a vedere e ti... Così ti faccio vedere anch'io una cosa che ho fatto. Sì. Passiamo di qua andiamo a cosa a fare. Passiamo di qua andiamo a cosa a fare. Sì. Anche qua ho allargato tutto il pavimento, cioè ho rifatto il pavimento, ho messo bene tutte le mattonelle. Questo è molto bello che ho avanzato di terra. Ma soprattutto molto bello... Ho allargato un po' qua. Sì. Prendo. E qua? L'hai visto? Sì. Eh? Sì, sì. Allarga tuttura. L'ho visto meraviglioso proprio. Allarga tuttura. Sta bene le pareti di sabbia. Non ho mai pensato alla sabbia come materiale di costruzione. Però qua sotto ci sta bene. No, è bella è bella. Bisogna provare con l'arenaia. Magari. Mmm. Mmm. No, mi fiffo. Ok. Non so qual è l'arenaia. Ah, ok. Esattamente. Esattamente. Ok. Comunque. Allora, dalle tre per primo. Prego. Io? Qua, qua. Entra pure. Sì, sì, sì. Vai, vai, vai. Ti ricordi com'era, vero? Sì, sì. Caspita. Ecco. Ecco quella parte ancora da finire. No. Subito. La parte svegliata. Sì. Perché? Esattamente, sì. No, ma ti sei confuso. Non sono entrato. Allora. nulla. Ho messo le travi. Bello. Cos'è successo? Ho messo... Ah, che strano questo effetto sopraelevato. Del piolo. Ah, ok. Si può anche tappare. Meglio tappato così. Meglio, meglio. Ecco, avevo sbagliato, infatti. Era ancora da rifinire. Pensavo non si riuscisse perché c'era il piolo. Ah, no, no, no. Bellissimo. Questa è la catena, quasi, sto piolo. Mi piace. È bello, vero? Sì. Sì, sì. Per caso, insomma. Aspetta, ma che figo. Poi qua sopra ed è tutto chiuso. Sto ancora decidendo... Eh? Ti piacciono le travi ho messo? Sì, sì. Mi piacciono gli sbalzi. Sì, sì. È bello che non è tutto piatto. Ci sono un sacco di sbalzi e fatti di profondità. La pietra. Ah, qua, dai. C'è la... Ah! Spoilerazzo! Vabbè, tanto questo uscirà tra due anni, questo video, quindi ci sta. Ah, sì, infatti. Eh, sì, questo è l'arrivo. Ti sa, no? Ecco. Quindi, infatti, volevo farti vedere il percorso. Non c'è più il vetro sopra... Come si esce da qua adesso? Il vetro l'ho lasciato perché con intenzione di fare una... Qui è soltanto il punto di lavoro. Devo trasferire tutta la roba lì. Eh, sì. Hai fatto il letto incassato. Eh, sì, 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 per togliermi un po' di casini. Da qui ho fatto il mini, come si dice, proprio il mini magazzinino in cui ho usato tutte le cose che avevo nelle altre scatole e dal quale sono partito per costruire tutto questo maradango. Super compatto. Eh... Sì, 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 c'è tutto proprio. Questo pezzo di vetro con la terra sopra? Cosa vuol dire? Eh, quale? Lì nell'angolo. Questo? Va nell'angolo in alto. Ah, no, niente, ho cominciato a... Cioè, ho tolto un pezzo lì e venuto giù di tutto, ho detto, lo tappo al volo così, fa un po' di luce e basta. Chiaro. Chiaro. Ah, tra l'altro ho scoperto una cosa di questo attrezzo qua, di questo qua sotto. Eh, ecco. Oltre a disincantare, ti permette se ne metti due oggetti uguali dentro le due... Sì. Te le ripara, te le mette insieme. Si può fare anche con l'incudine, ma con l'incudine ti costa esperienza. Invece questo te lo fa gratuitamente. No! Davvero? Sì. Tipo se metti due archi scassati ottieni un arco riparato fondamentalmente senza usare l'incudine. L'ho appena fatto con la spada. Sull'incudine? Perché forse si può fare anche nella... Eh, l'incudine è questa? No. E ripare disincanta? Sì, esatto. Ripare disincanta, quello lì puoi riparare gratuitamente. Invece nell'incudine devi spendere esperienza per riparare le cose. E soldi, e oggetti, e materiali. Anzi. Sì, ma qua non puoi usare i materiali. Qua puoi solo mettere insieme due oggetti uguali. Ok, ho capito. E niente, allora vieni, posso farti vedere ancora? E ti faccio vedere. Vieni... Vieni. Vieni. Allora, quello che io ho fatto... Aspetta, fammi vedere se o no. Perché volevo farti vedere... Mi piace un casino. Ti piace? Le cose così leggermente incassate. Eh sì, ho avuto... Una bella idea, sì. Adesso ti dico com'è che avevo avuto questa idea. Con tutte queste panche qua intorno. Ecco. Allora, io l'idea di farlo così, di fare la luce incassata, ce l'ho avuta per il semplice fatto. Ma molto, molto, molto semplice. Che se tu provi a mettere una luce direttamente sul soffitto che in cui c'è un pezzo di legno che occupa metà cubo, diciamo così, non puoi metterlo. E quindi ho detto, eh allora devo incassarlo. L'ho incassato ed è venuto ancora meglio. Ma la chicca vera è che se tu vedi, nell'incasso, io ho messo un pezzo, un tronco. Sì, 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 sì. Per dare il senso diverso, di diversità. Sì. Poi ho messo le travi che davano ancora di più l'idea di sostegno. Sì, esatto, un po' di sostegno architettonico. Sono contento anche che l'hai fatto alto 3 invece che 2. Cosa? Scusa? Sono contento che l'hai fatto alto 3 invece che 2. Sì, no, no. Sì, ma è venuto un po' per caso, nel senso che mi sono andato a pensare... Ehhh... Lo volevo fare molto più grazie. Ti ricordi il casino che c'era qua dentro? Aha. Ora, ci ho aggiunto il mio tocco. Sì. Ok. Aha. Ah ha 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 Va bene, ti piace? Ah ha 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 ha. E qua dentro adesso devo mettere ancora la scala per salire come unico accesso. Invece, torniamo un attimo a casa di Bobolink. Andiamo un attimo di là. Sì, sì. Aia. Perché volevo farti vedere il giro... Oh, yes. Che ho preparato per Ah, qua anche ho fatto una piccola modifica Vieni a vedere Anzi, va bene vederlo da là È una piccola modifica che serviva a rendere un po' meno opprimente Questo corridoio Che aveva, sei noti qua Ho messo degli scalini qua e qua Qua e qua Che permette di alleggerire un po' la struttura Prima c'erano i blocchi La colonna intera E quando la colonna era un po' opprimente Era un po' rinchiacciante Invece così è rimasto un po' più leggero Un po' più arrieggiato Ottima idea, anzi, molto bello Non guardare dove c'è scritto OH, ok, perché Ho fatto man bassa Ok Tanto è un po' che volevo Raccogliere un po' di legna È buio o pesto? Andiamo a dormire Tu hai un letto No, qua no Ce l'hai? No No, ce l'ho Ah sì, ce l'ho In inventario Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho I have Tieno Voilà E poi andiamo a completare la ricerca dei due tesori Sì, e poi andiamo a completare la ricerca dei due tesori Tu appigliati il letto, grazie Molto gentile Andiamo un attimo da bobo Sì Anche te sei fatto male Certo Un attimo Faccio una cosa veloce Ok, ci sono di nuovo Partiamo Ok Allora Sì Tu passi di là Qua si vede Qua si vede Per qua intorno Sì Si entra dall'altra parte Infatti Da qua Giusto Anche Sì In realtà Questa è casa di Manuel No Ah ok Magico Di magico E E l'hanno collegata da qua sotto Che carini Ok Ok No, sono salito un piano di troppo Eccoci Uh Segui blocchi di nether E ho dimenticato di metterne uno esattamente qua Ma dai Il cartello di legno zebra Ha il paletto bianco zebrato Non ci avevo mai fatto caso Mi piace No Mi piace E tra l'altro Questi blocchi di nether Guarda che bel posto ci hanno portato Sì Infatti E quello che vedevo mentre facevo È bellissimo È notato Io qua dentro farò Sì Per te Che Questo è un animale sacro E più speciale di tutti Gli ho fatto il recinto più bello Io sono proprio contento Infatti Non vedo l'ora di entrare con un TNT Sì Poi c'è un sacco di carote C'è un sacco di grano Ah qua tra l'altro ho incastrato due lama Che continuano ad essere parti qua Possiamo ucciderli? Ma no Può anche lasciarli lì Perché devi farlo Ok Trombolo Non so come fare i sentieri Tra un recinto e l'altro Stavo pensando quasi quasi Secondo me come gli hai fatti No No secondo me è bello Farli sentiero Sì Non scavato Ma Il fango Quello che Ecco Questo Questo sì Bellissimo Mi piace ma È bellissimo proprio Vabbè Legge il cartello Esatto Quello che c'è dentro non lo dico Non l'ho visto e non lo dico Benissimo Così rimane la sorpresa Casomai Si è stato in punizione per due anni Hai chiuso la porta per mangiare Stai mangiando il pollo crudo Che hai appena ammazzato Sei proprio un coach salvaggio No No Questo l'ho cotto Non hai idea di che strage ho fatto Ne ho ancora dieci Maledetti polli Allora no Devo sistemare qualcosa Ah già che te l'ho riempito la casa Me ne dimentico sempre che te l'ho riempito la cazza Allora aspetta un attimo che Non devi più vedere polli per il re La mia vita su minecraft No Eh si Ci riesci a salire? Hai messo al Ah ok Hai messo in modo un po' strano Ok Vabbè ti piace allora Mi piace usare Ti piace Chi ha messo questa roba di pietra qua Io la toglierei perché è veramente Di cattivo Funzionerà in questo modo Adesso vabbè Bobboling Qua farò Farò Un trono Non so ancora come Ma voglio fare un trono Perché questa è la salita Al trono Chiaro E Non sarà più casa mia questa Ah ma dai Al di sopra Dove c'è il La vetrata L'idea è quella di Vieni andiamo sopra un attimo Vabbè non importa Chi se ne frega Vabbè Sì sì dai Allora Perché mi spado Ok Qui sopra fare una piramide Di vetro Ah Vedi che c'è ancora un po' di macello qua Questo è il tempo però Visto visto Hai visto che non hai visto Mi stavo per lanciare una freccia Che si è messa davanti 22 volte Ah Non avevo capito Che ne pensi? Mi piace un sacco Quindi questa parte qui Adesso tu ci entri Ma non è necessario Non entri Né su una parte In realtà Qui Entri E sei nel sottotetto Ecco No Maledetto creeper Scusa Esploso Un po' d'esperienza Esploso? Sì Ma è quasi Aspetta aspetta che Lo posso riparare Mamma Ho tappato il buco Oh Ma quanti mob ci sono? Eh Sì perché ho messo un po' di torce in giro E quindi tendono a comparire dove è più buio E si raggruppano là dove è tutto più buio Che livello sei? Dodicesimo Io quattordicesimo secondo me E anche per quello Siamo in due di livello Non dico alto però Dici che è proporzionato Non pensavo fosse Alla quantità di persone Alla Il numero di persone sì Questo L'ho notato Almeno mi sembra Ah può essere Però ho notato una differenza Andiamo a dormire Ci sei? Com'è che ti semino sempre? Ahia Crabiglie spezzate Sì Va bene Allora io vado a dormire Lì Per l'ultima volta Quella che per l'ultima volta Considererò casa mia Dopodiché sarà semplicemente Il torrono Ah E l'avevo l'ho messo qua Vai È bello perché segue il sentiero rosso Che c'è in superficie Ma da sotto Dimmi quando sei arrivato Ah sei là Arrivato Tu ho visto con i carti Bene bene Ottimo Ma Cos'è di tappiamo adesso Per andare dentro Perché devo mollare giù Un po' di roba Io sono tutto Agghindato da builder Sì 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 Anche io sono Al momento Devo togliere un po' di roba Non sono adeguato A viaggiare per i mari In cerca di avventure Quindi direi che Possiamo salutare Tutta la brava gente di YouTube Intanto facciamo il nostro Bravo inventory management E gestione dell'inventario varia E E ci rivediamo nel prossimo episodio Fondamentalmente quando Andremo a completare Questo tesoro qua E prendiamo gli altri due Dopodiché Non abbiamo più scopo Per giocare in Minecraft Disinstalliamo tutto E giochiamo a Doom No Buttiamo via il computer Perché non si può Ah ok va bene Ok Quindi questi tre tesori E poi la nostra vita di gamer Sarà finita per sempre Ci stai? Ma che Se No Sì Ti dispiace un po' Ma Ci penso Vabbè Intanto salutiamo la brava gente Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.